A Pagani i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una centrale di ricambi auto completamente clandestina. Due locali garage nella disponibilità di AF 41 anni ora ai domiciliari, trasformati nella fucina di smontaggio di vetture rubate sull'intero comprensorio e i cui pezzi venivano ulteriormente smistati. Un meccanismo collaudato che fa proporre una fiorente attività, visto che è al momento dell'irruzione in questa sorta di laboratorio. I carabinieri hanno trovato motori vari, uno in particolare, 1.300 Multijet con matricola Brasa, componentistica varia per auto, modelli del gruppo automobilistico Fiat, Volkswagen e pneumatici per vetture del valore sul mercato di diverse decine di migliaia di euro. Pronta ad essere minuziosamente smontata poi, anche una Ford K, sulla quale AF, insieme al suo lavorante GZ, solo denunciato, avevano già provveduto a sostituire le targhe originali con quella di un'altra autovettura dello stesso tipo, destinata alla ruttamazione. Una vicenda che conferma la centralità dell'agronoceolino rispetto al flusso di pezzi di ricambio rubati. Clamorosa l'intuizione investigativa del 2007, quando i carabinieri, nell'ambito di un'operazione nazionale cominciata da Melfi in Basilicata, sequestrarono pezzi di ricambio trafugati direttamente dallo stabilimento lucano della Fiat. In tutta Italia, ma anche e soprattutto in provincia di Salerno, si arrivò al sequestro di diversi milioni di euro di pezzi smerciati nel mercato parallelo clandestino e in quell'occasione nell'agro da Melfi a coordinare il sequestro sul campo arrivò l'allora comandante della locale compagnia carabinieri, quel maggiore Simonillo, che oggi è a capo del reparto territoriale nocerino.